Tra gli anni 50 e gli anni 60 Sant'Ilario conobbe un periodo di profonda trasformazione economica e sociale. Fu proprio in questo momento di progresso e impegno civile che nacque il premio di pittura Sant'Ilario grazie soprattutto a un gruppo di amministratori e di cittadini tra cui Piero Iotti, Lelio Poletti, Adriano Ferrari e Fiorello Donelli. Il premio del 1953 al 1966 diventerà un importante appuntamento non solo di carattere locale che arrivò a coinvolgere l'intero paese e a fare convergere a Sant'Ilario artisti e celebri critici d'arte come Mario De Micheli e Francesco Arcangeli. Così Mario De Micheli, critico d'arte e membro della giuria sin dall'inizio del premio, ne ricorda appunto il clima. Tra i premi di pittura nati nel primo dopoguerra quello di Sant'Ilario è stato senz'altro uno dei più ricchi di ragioni culturali e di vive presenze artistiche. Intorno al premio c'era l'intero paese, un interesse generale che si esprimeva sia nella folla che visitava l'esposizione sia nel dibattito che ad ogni inaugurazione il premio stesso organizzava. La frequentazione di alcuni artisti conosciuti nell'ambito del premio e il fervore culturale di quegli anni, dovuto in particolar modo all'impegno dell'amministrazione comunale e al clima di partecipazione vissuto da tutta la cittadinanza, hanno prodotto una serie di opere emblematiche della profonda trasformazione che Sant'Ilario stava vivendo anche nell'ambito della promozione della cultura e dell'arte, vissuta anche in particolar modo come uno strumento formativo. L'edificio della nuova scuola media rappresenta l'impegno del comune verso un progresso, prima di tutto culturale, finalizzato ad un più ampio accesso al sapere per le nuove generazioni. In via Gramsci nel 1963 venne inaugurata la nuova sede, progettata dall'architetto Lusignoli e realizzata dalla cooperativa Muratori di Sant'Ilario. La scuola sarebbe dovuta essere intitolata alla memoria dei fratelli Cervi. A causa però di un mancato accordo tra il ministero e il comune, l'originale intitolazione non fu possibile. Ci si orientò allora verso un'intitolazione a Leonardo da Vinci. La presenza all'interno della scuola di un'opera di Nello Leonardi, dedicata ai fratelli Cervi, testimonia l'unità progettuale e ideale che questo luogo avrebbe dovuto rappresentare. L'opera di Nello Leonardi fu realizzata nel 1964 nell'ambito delle celebrazioni in occasione del ventesimo anniversario della Resistenza. Si tratta di un significativo esempio della grande pittura realista in cui l'artista rappresenta anche la componente militante ed impegno sociale con dei tratti fortemente suggestivi. L'artista non si ferma alla rappresentazione del noto fatto della fucilazione o sulla figura centrale di Alcide Cervi come principale testimone della vicenda resistenziale dei suoi sette figli, ma realizza un grande ritratto familiare, una rappresentazione domestica carica di umanità che trae anche la sua forza narrativa proprio dalla quotidianità contadina basata sull'unità, sui rapporti intimi che legano i membri della famiglia. L'antifascismo, gli interessi culturali, la spinta all'emancipazione dei ceti popolari emiliani, valori che sono rappresentati nel quadro con il mappamondo e la libreria. Nella scelta di raccontare la vicenda dei Cervi rappresentando questa particolare scena, questo momento semplice, intimo, in cui sono racchiusi poi anche tutti gli ideali della famiglia, ha inciso sicuramente molto il fatto che sin dall'inizio questa opera fosse destinata all'atrio della scuola media. Queste sono le parole dello stesso pittore nel ricordare le scelte che dettarono la creazione dell'opera. È un lavoro che ho fatto volentieri, per molte ragioni, intanto per il soggetto, che mi è molto caro, poi per la funzione che a mio avviso il quadro deve avere, una funzione didattica per i ragazzi della scuola, dunque un'immagine non traumatizzante ma comune. Volevo far vedere questa famiglia di contadini della bassa reggiana ad altri reggiani. Mi bastava che si chiedessero, guardando il quadro, il perché dell'uccisione. Non ho voluto ritrarre un momento eroico della vita dei Cervi, ma una scena qualsiasi di vita in casa, proprio per trasmettere ai ragazzi una certa familiarità, ragazzi che magari venivano dalla campagna o in campagna avevano amicizie e parenti. L'opera fu molto apprezzata dall'opinione pubblica, tanto da essere visitata da importanti personalità pubbliche e intellettuali, come per esempio Palmiro Togliatti, segretario del Partito Comunista, Renato Guttuso, l'artista o regista Pierpaolo Pasolini. La costruzione dell'edificio scolastico fu completata dalla realizzazione di questa scultura di Marino Mazzacurati, inaugurata il 7 marzo del 1964, lo stesso giorno dell'opera dedicata ai fratelli Cervi. Mazzacurati è stata una figura di rilievo nell'arte italiana del novecento, fu pittore, decoratore, intellettuale e associato il proprio nome in particolar modo alla scultura con opere realizzate in tutto il mondo. Fu un abituale frequentatore dell'Emilia e lui si deve la scoperta in particolar modo di Antonio Ligabue. L'opera testimonia molto bene la capacità di Mazzacurati di spaziare dal realismo alle più avanzate ricerche della forma astratta. Sempre legata al nome di Marino Mazzacurati è un'altra importante testimonianza presente nel comune di un'opera strettamente legata al racconto e la narrazione della Resistenza, la copia della testa al monumento dedicato al partigiano a Parma. L'artista nel secondo dopoguerra diventò uno dei migliori esponenti del movimento realista con tutta una serie di monumenti proprio dedicate alla Resistenza come quello appunto che sorge a Parma di cui questa testa ne è una fedele riproduzione. Per Mazzacurati la militanza e l'antifascismo furono due linee che guidarono quasi tutta la sua produzione e un artista che riuscì a raggiungere la narrazione più alta del pathos resistenziale nell'uso proprio della statuaria. L'opera testimonia molto bene che cosa aveva significato a livello di opinione pubblica l'erezione del monumento al partigiano e anche che nuovo dibattito stava avvenendo intorno alla diffusione di monumenti a ricordo della Resistenza e proprio anche sul ruolo pubblico dell'arte. Lo stesso Mazzacurati così definiva il suo impegno. Io credo che lo spirito della Resistenza è qualcosa che trascende i limiti della nazione e del continente. È un valore universale senza limiti né frontiere e credo che debba farci sentire impegnati nella nostra dignità di uomini ogni qual volta questa dignità viene calpestata. Non importa in quale parte del mondo, tutto il mio lavoro di questi anni se potesse definirsi con un nome si dovrebbe chiamare fedeltà. Fedeltà agli uomini, alle loro speranze e ai loro ideali. Diversi sono i pretesti narrativi che guidano il sorgere a cavallo degli anni 60 dei vari monumenti celebrativi della Resistenza che nascono in diverse città. Dolore, martirio, fratellanza, denuncia verso nazismo e fascismo. Il monumento di Sant'Ilario invece trae la propria ispirazione e celebra un valore assoluto, la libertà. Un valore eterno, ricordando coloro che hanno agito per riconquistarsela, di chi ha scelto la Resistenza come unica strada percorribile davanti a situazioni inaccettabili, della lotta non come scelta eroica o ideologica, ma come la sola possibilità esistenziale di vivere con consapevolezza. Il monumento di Sant'Ilario, inaugurato l'8 settembre del 1963, realizzato da Luigi Grosso, parla un linguaggio diretto che sfida i modelli retorici e ageografici degli altri monumenti dedicati alla Resistenza a lui coevi. È una statua agile, colta come nel momento di liberarsi dal suo piedistallo, che riesce ancora oggi a comunicare intensamente quell'esplosione di gioia nel momento della consapevolezza della conquista della libertà e di avere anche lottato per ottenerla. Questo valore quindi, la libertà, che ritorna anche poi nell'iscrizione della pietra a corredo dell'opera, è l'essenza stessa del monumento e viene anche spinto al di fuori del significato storico della liberazione e diventa quindi un valore universale da difendere come un diritto primario dell'essere umano. L'arte quindi come veicolo valoriale, come strumento capace di creare uno scambio creativo e propositivo, ha trovato qui a Sant'Ilario un equilibrio nell'ambiente in cui si svolge e ha saputo rappresentare e rappresenta ancora oggi la consapevolezza dell'eredità di un impegno civile, l'arte che diventa testimonianza al servizio della collettività. Grazie a tutti. Grazie a tutti.